Il PM per Giovanni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco ha chiesto 30 anni di carcere ciascuno. Sono entrambi accusati di omicidio plurimodoroso aggravato per l'esplosione della cascina di Quarniento nella notte tra il 4 e il 5 novembre del 2019. Presso la Corte Assisi di Alessandria è ripreso il processo per la morte dei tre uomini dello Stato e mentre dentro l'aula il procuratore della Repubblica di Alessandria Enrico Cieri esponeva la requisitoria, all'esterno del Tribunale una rappresentanza dell'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ribadiva che i pompieri possono proteggere i cittadini solo se la magistratura e lo Stato non sono contro di noi. E poi in aula erano presenti i familiari delle vittime e il comandante dei Vigili del Fuoco di Alessandria Roberto Marchioni. Il PM ha sottolineato con forza come Giovanni Vincenti avesse la possibilità di salvare le vite dei tre Vigili del Fuoco avvertendo delle bombole presenti nelle strutture. non lo ha fatto accettando il rischio che la sua azione provocasse la morte di Marco Tricchess, Matteo Gastaldo e Antonino Candido. Durante il dibattimento i legali delle parti civili si sono battuti per dimostrare la completa responsabilità di Antonella Patrucco complice in tutto per tutto del marito ma hanno ribadito anche di non essere in linea con le richieste del PM chiedendo alla Corte una condanna esemplare.